buongiorno sono chiara pellegrini sono felice e orgogliosa di poter partecipare anch'io al progetto restart dolomiti con la mia illustrazione che ho intitolato la speranza acrilico e tecnica mista su carta vi aspettiamo numerosi a mila part per l'asta del 26 gennaio un po' un po' un po' un po' un po'